A me non è che mi fece una buona impressione, ho visto piccoletti, con i capelli così, tra cagnotto. Ma quando andammo al campo, dopo dieci minuti lo fece uscire. Fece tre magie da rimanere in prezzo della memoria per tutta la vita. Con questo aneddoto Gianni Di Marzio racconta il suo primo incontro con il Pibede Oro, appena a sedicenne in Argentina nel 1978. Fu proprio Di Marzio, ex allenatore ed ex direttore sportivo, a portare in Italia Diego Armando Maradona. Ci riuscì nel 1984. Nel suo studio campeggia una foto storica scattata insieme quando il campione argentino venne a Padova per un amichevole. Maradona e Gianni Di Marzio rimasero amici e restarono in contatto negli anni. Lui era un rapporto diverso. Negli anni ci siamo frequentati, lui purtroppo è rimasto prigioniere della sua notorietà. Nella sua divinità perché è stato usato come una slot machine. Proprio in questi giorni Di Marzio voleva organizzare un viaggio in Argentina. Voleva andare a trovarlo dopo l'intervento di rimozione di un ematoma al cervello. Per me è stato uno shock perché va via una parte della mia vita. Io onestamente l'ho sempre avuto non solo nel mio cuore, ma lo sentivo spesso, cercavo di dargli suggerimenti giusti. La tristezza per la perdita di un grande patrimonio del calcio, un campione che, dice Di Marzio, è stato spesso usato dagli opportunisti, un condottiero immortale. Maradona è migliore di tutti i tempi. Maradona è stato solo prigioniere della sua notorietà, una divinità. Io ho avuto il piacere di farlo conoscere a Napoli. Io ho avuto il piacere di farlo. Grazie a tutti.